Ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach, come state? Come dici? Sì sì, oggi ho carta e penna, quindi le cose si fanno un po' serie. Scherzo, come hai visto dal titolo, oggi il coach vuole darti un semplice consiglio su come migliorare i tuoi addominali giornalmente. Questa carta e penna ce l'ho perché mi sono segnato alcune domande tipiche che vengono fatte in eterno, io sarò più di 20 anni, 22, no vabbè, lascia perdere! E' tanto tempo che faccio questo lavoro e le domande sono sempre le stesse, tipo Mario, ma quando devo fare gli addominali? Prima? Dopo l'allenamento? Durante? Ma quanti ne devo fare effettivamente di questi addominali? Mario, ma che ne dici di questo esercizio piuttosto che questo? Ma ho visto quello lì, un bel esercizio! Mario, 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 Mario! Allora ragazzi il discorso è molto semplice, in realtà ne avrei sentite sicuramente tante di tipologie, ne hai visti tanti, di esercizi e magari alcuni di loro sono proprio validi, magari funziona e magari qualcuno ti ha dato il risultato, però forse non quello che cerchi effettivamente, se no queste domande non ci sarebbero, giusto? Da sempre! Allora io ti posso dire che i tuoi addominali li puoi costruire giornalmente, è uno di quei gruppi muscolari che va stimolato in maniera giusta, non in maniera eccessiva, infatti l'errore più comune è fare interminabili sessioni di non so quanto tempo di addominali, magari con i tuoi soliti crunch, centinavero, centinaia e centinaia di crunch, praticate tutta la durata dell'allenamento, ma magari fosse così semplice, che ne pensi? Io penso che l'addominale si possa costruire giornalmente lavorando con degli esercizi di qualità, esercizi che effettivamente possono migliorare, ovviamente ci sono diversi esercizi, ovviamente se vogliamo entrare proprio nello specifico ci sono esercizi che migliorano la forza, migliorano la resistenza, migliorano la performance, sono esercizi che addirittura mettono tutti insieme questo, ci sono anche esercizi estetici, quindi esercizi di qualità, quali sono, se mi scrivi giù e vuoi sapere effettivamente o vuoi vedere degli esercizi di qualità piuttosto che di quantità, magari mi scrivi e io proverò a tirarti fuori un video, quindi quello che ti posso consigliare ragazzi, non, appunto stavo dicendo anche prima, non andare su lunghe sessioni, magari facendo uno o due esercizi e li ripeti sempre, è ovvio che non otterrai niente, il cambiamento si ha quando provi a variare, ma questo è un dato di fatto, quindi fondamentalmente quello che volevo lanciarti oggi, non fossilizzarti troppo sulla tua solita routine, cerca di applicare il più che puoi cambiamenti agli addominali, cosa molto importante, chiaro questo, ma non volevo nemmeno dirlo, ma sembra che va sottolineato, bisogna migliorare, un attimo, bisogna, scusatemi, bisogna migliorare tantissimo anche l'alimentazione, quello fa gran parte del risultato e non è 30, 40, 20, 10 oppure quasi, è 100 l'alimentazione e 100 è l'allenamento. Ok, io spero che questo video ti sia stato utile, ti ripeto se vuoi sapere qualche esercizio di qualità, vuoi vedere qualche bel video di allenamento, oppure ne vuoi vedere già qualcuno, vatela a cercare se non nella mia sezione il coach ti spiega. Ok ragazzi, ti ringrazio di essere passato da queste parti, dal canale del coach, se ti va, lascia un mi piace oppure iscriviti al canale così non perderai i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima e allenati bene, ciao!